Che risposte aspetta Lega Ambiente sull'impatto della Bertella Campogalliano-Sessuolo? Noi aspettiamo delle risposte a domande che facciamo da anni e che facciamo da anni che sono risposte che non riguardano ed esclusivamente l'impatto ambientale di questa infrastruttura, ma sono risposte anche di buon senso e le risposte di buon senso sono delle domande relative al progetto vero e proprio. Un progetto che è stato presentato, approvato nel 2010, ma in cui la data del progetto era del 2005 e dove oggi, che siamo nel 2016, quindi praticamente a dieci anni di distanza, non risponde più a quel tipo di progetto quello che è lo scenario, il contesto intorno, che non è solamente il contesto ambientale ma è il contesto economico, è il contesto sociale, è il contesto infrastrutturale. Le criticità che ci sono rispetto a queste nuove infrastrutture che ci sono uno scalo merci che rimane fermo da anni e che anche lì, come la bretella, si dice che debba il giorno dopo essere inaugurata non parte mai. Queste risposte, che sono risposte di natura tecnica ma anche di buon senso, noi non le abbiamo mai avute e quindi vorremmo capire se c'è la possibilità di rivedere il progetto come prevede il nuovo codice degli appalti in funzione appunto di questi nuovi scenari che dal 2005 a oggi sono cambiati.